Non chiedere solo per quanto riguarda gli acquisti di Natale, li ha già iniziati? Sì, conclusi quasi. E ha speso di più o di meno dell'anno scorso? E di più. Questo Natale sembra febbraio di due anni fa. Non si vende niente, un 10% rispetto agli altri anni. Come mai? Come mai? Perché i soldi saranno mangiati tutti a Roma là. E allora siamo in queste condizioni, hai capito? E poi fanno pagare sempre i poveri, come vedi qua. Si spende più o meno dell'anno scorso? No, meno, meno, ci sono pochi soldi. Avete iniziato gli acquisti di Natale? Assolutamente no. Come mai? Perché è una tradizione che bisogna perdere, perché è solo un consumo. Non solo chiederle per gli acquisti di Natale, li ha già iniziati? E' finiti. Avete speso più o meno dell'anno scorso? Molto, molto di meno. Molto o meno? La crisi? Eh, purtroppo. Spenderà di più o di meno dell'anno scorso? Di meno. C'è la crisi? Sì, si sente molto. C'è proprio crisi ormai, la gente è proprio senza soldi, c'è proprio poco. E chi ce li ha ha paura di spenderli comunque. E rispetto all'anno scorso? È un 30% in meno almeno. C'è proprio un calo, si vede proprio che la gente non ha questo entusiasmo che c'era gli altri anni. Noi non ci possiamo lamentare, siamo un negozio di oggettistica e vendiamo cose che hanno dei prezzi alla portata un po' di tutti, per cui per noi sta andando bene. I clienti vengono da noi proprio perché sanno di poter trovare tante piccole cose per fare tanti piccoli pensieri. Ecco, quest'anno c'è più la tendenza a fare i pensieri del regalo. Abbiamo fatto degli acquisti, piccoli acquisti. Rispetto all'anno scorso ti hai risparmiato o no? No, non credo proprio. Abbiamo finito già gli acquisti di Natale. L'avete speso più o meno dell'anno scorso? Più o meno uguale. Quindi la crisi? Eh, c'è, ma ci si arrangia.